Perché la medicina anti-aging non è per tutti? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. La medicina anti-aging non è per tutti, bisogna ammetterlo, ma perché? Innanzitutto è per le persone che ci tengono al loro stile di vita, sono disposte a mettersi in gioco da questo punto di vista, perché il primo tassello della medicina anti-aging, della longevità e dell'invecchiamento favorevole parte proprio dallo stile di vita, quindi nutrizione, attività fisica, gestione dello stress, sonno, integrazione personalizzata e di precisione, quindi bisogna fare tante cose, bisogna essere disposti a cambiare qualcosa, quindi per adesso non esiste la magic pill, si sta studiando sicuramente, magari proprio dalla medicina anti-aging si riuscirà a trovare quella pillola magica che riesce a condensare i benefici che possono essere dettati dalle modificazioni dello stile di vita, ma adesso non c'è, quindi la medicina anti-aging è solo per quelle persone che vogliono cambiare e fare qualcosa perché capiscono che per vivere bene, vivere a lungo è necessario cambiare qualcosa. La medicina anti-aging poi è per qualcuno che è disposto a uscire dagli schemi dei protocolli della medicina istituzionale, capisce che ci sono dei limiti, quindi la medicina istituzionale chiaramente è basata sulle evidenze e quindi ha delle fondamenta, ma è molto rigida, è molto lenta. Ci vogliono generazioni, sapete, perché i medici siano disposti ad accettare anche piccoli cambiamenti reali nel modo loro di pensare, questo veramente si dice, l'ho imparato in università, ma ci vogliono generazioni per cambiare realmente il loro modo di ragionare e quindi anche chi si avvicina alla medicina anti-aging deve essere aperto, deve essere veloce, deve capire ed essere orientato assolutamente verso il futuro. Sicuramente le persone devono anche essere orientate, o gli deve piacere la medicina integrata, cioè quel tipo di medicina che mette insieme tutte le conoscenze, convenzionali o non, per arrivare comunque ad avere il quadro più possibile ampio di strategie terapeutiche e anche diagnostiche per riuscire ad individualizzare la terapia. Altro aspetto, naturalmente, è un dato di fatto, non possiamo nascondarci dietro un dito, c'è l'aspetto, diciamo così, di impegno economico e di tempo per seguire questo tipo di medicina. Di tempo non bisogna, nel senso che è una specie comunque di percorso, quindi non è un qualcosa che impegna assiduamente, però nel corso dell'anno ovviamente vanno effettuati degli esami e magari vanno effettuati controlli e vanno assunte le terapie che vengono prescritte, quindi è un discorso in termini di tempo, ma anche economico perché la medicina anti-aging si avvale di test innovativi, si avvale almeno quello che proprio ci insegnano all'università che ho imparato negli Stati Uniti, è proprio il fatto di utilizzare i prodotti della miglior qualità possibile di qualsiasi genere per quanto riguarda l'integrazione, quindi dalle vitamine ai fitocomplessi, agli ormoni bioidentici, ai peptidi, tutto deve essere della miglior qualità possibile per un discorso di sicurezza e biodisponibilità. Se volete avere ulteriori informazioni potete guardare il mio sito www.tomella.it. Al prossimo video!